Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Clash of Clans Questo è il mio villaggio, guardate qua quanto diamine grande e gigantesco Ho livellato tantissimo tutte le più belle cose che abbiamo nel villaggio Ora sono tanto due costruttori, quindi sono costretto a fare ogni volta sempre due costruzioni massimo E sto aumentando le nostre risorse, anche se al momento abbiamo tutto pieno, ok? Avete qui tutto a posto Allora, ho fatto molte cose, mi hanno i vostri consigli Prima di tutto farmi tornare a ceri e potenziarla Farmi un bel po' di amici nell'accampamento Ora se devo comunque aumentarli queste cose perché comunque ci vuole un po' di tempo E stavo puntando sicuramente ad aggiustarmi anche un po' la mia zona, più o meno la mia casa Perché mi hanno dato un paio di consigli su come poter rendere il tutto più figo Però penso sia inutile farlo adesso Quindi magari per il momento facciamo una sufficiente costruzione del clan come abbiamo fatto adesso E accontentiamoci perché penso che possa rimanere tranquillamente così Il nostro piccolo, la nostra piccola zona Sabiamo già benissimo che possiamo trasportare tutto tranquillamente lontano E possiamo aggiustarlo come meglio crediamo Ma non è importante per il momento Quindi lasciamo stare Buu, soldini Allora andiamo verso l'attacco Io andrei ad attaccare sicuramente Eh sono un po' perplesso perché non so quale di due potrebbe essere un'ottima di attaccare Io andrei principalmente a fare questa roba Farei tipo migliorare la caserma Però poi non avere truppe dopo Giustamente Quanto ci vuole migliorare? Ci vogliono 10 ore Tantissimo Non si può fare ragazzi Al massimo miglioriamo questa cosa La portiamo al livello più alto Se meno abbiamo un paio di cosette in più Allora andiamo a fare pvp Voi direte Ulisse Perché devi fare pvp? Perché pvp è bello Però prima di fare pvp Voglio distruggere la vare del lotto Perché voglio fare un bel po' di stragi Abbiamo qui soltanto un paio di cannoni Non dovrebbe essere un problema Se mando tipo un paio di loro Ok Oddio È bello potente È bello grande anche se lo devo dire Perfetto Quindi al massimo riusciamo a tancarlo così Da tempo qui lanciamo altri due soldati Ok E loro Ok Un paio di arciere A me lo facciamo anche dalle stragi Nel frattempo Anche se le arciere prenderanno un casino di mazzate Da quella cosa Perfetto Un paio sono andati via Lo vedete ci sono anche questi cosi Mi avete considerato di tipo Fandare Che sono in sostanza Dei goblin E sono molto utili Perché recuperano un sacco di soldini Cioè puntano sufficientemente a fare i soldi Ed è una cosa fantastica in questo modo Ora giustamente non abbiamo Abbiamo abbastanza soldi Però prendiamo giusto qualcosa in più Per raccimolare i soldini Ed ecco qui distrutta Quasi l'ultima casa Perfetto Abbiamo un perfetto 100% Nice Abbiamo spiegato un paio di truppe Ma fa nulla Sicuramente abbiamo abbastanza roba Per il momento Non abbiamo ancora aggiunto il massimo dei soldi Quindi non conveniva nemmeno attaccare Sicuramente Però va bene comunque Non preoccupatevi Allora Nel frattempo Voglio Prendere altre truppe se possibile Quindi che ne so Adessare altre truppe Come avete visto Loro muoiono abbastanza facilmente Tutti i barbari Ora Qualcuno mi ha commissiliato Prendi un sacco di barbari E buttali lì Ci può stare come tattica È utile Da quello che ho capito Però I barbari muoiono facilmente Quindi dobbiamo per forza andare Verso qualcosa di un po' più figo Un po' più bello Cosa facciamo quindi? Andiamo a prendere un paio di loro Ok Oddio Già 20 E prendiamo un paio di arcieri E tutto il resto barbari Ora loro non mi serviranno nemmeno più di tanto Perché giustamente Vanno tanto a racimolare risorse Che a fin fine a me non servono Quindi va benissimo così Ora non mi è rimasto molto Per poter attaccare Quindi Dovremmo semplicemente Aspettare E vedere se possiamo Acquareli Possiamo costruirci anche qualcosa Ora Come difesa ci sono Questi muri che mi avete consigliato di mettere Però non ha senso come metterli adesso Perché non abbiamo abbastanza Posti E anzi Dovremmo sistemare meglio Nostri Eh Le nostre zone Quindi magari Possiamo andare in tipo modalità Spostamento Ecco Modifica di posizione Perfetto E vedere più o meno Come spostare i nostri Piccoli oggetti Quindi che ne so Lascio Lui in mezzo Per esempio Qui Ok Tipo qui Perfetto E ci mettiamo attorno Tutte le cose Preziose Da fin fine Quindi Questo Ora mettiamo un attimo Mettiamo tutti lontani Per esempio Ok Iniziamo per esempio Dobbiamo mettere questa roba Che è la nostra raccolta Ok Praticamente Non so se ci mette Dove mettere da parte le raccolte Oppure il resto Penso che sia più essenziale Di mettere le raccolte Quindi che ne so Questa roba Ha un certo lato E invece il resto Possiamo anche buttare lontano Quindi per esempio Mettiamo questa Qui Poi Le altre cose Le posizioniamo un po' più vicino Adesso Tipo Che ne so Questa Anche qui Perfetto E poi Vabbè magari Ah possiamo anche mettere più vicino In effetti Giustamente Facciamo in questo modo Dovremo essere più felici Ok Mettiamoci il nostro Nostro Cosa era il ceri qui Spostiamo il nostro campo Più avanti Tipo In questo modo Oppure lo mettiamo fuori Lo mettiamo fuori dalle mura Potremmo farlo anche fuori dalle mura Tranquillamente Quindi probabilmente Magari mettiamoci questa cosa qua Ottimo I cannoni Per presidiare il tutto Quindi uno qui Magari E uno Più qui Dovrebbe bastare Attenete che dobbiamo distruggere anche questa pietra Ah non ho costruttori Quindi non posso fare nulla Per spostare questa roba Ok Casa dei costruttori Mettiamo un po' più lontana E iniziamo a gestire Ancora il nostro ricordo Perché giustamente Dobbiamo farlo Al più presto Se non vogliamo Perdere tante risorse Anche Sì Giustamente non ci stanno attacando tantissimo Siamo ancora a livello basso Quindi non gli conviene nemmeno Attaccarci tantissimo E mi sembra giusto Nome cosa Quindi Cosa facciamo Ora sta roba va benissimo Spostiamo lui Spostiamo Ok E prima iniziamo a ricintare Per esempio Potrebbe essere un'ottima idea Iniziare a ricintare un paio di cosette Ed essere più o meno felici Ok Magari questo lo mettiamo tipo Ne so qua Ok E qui dietro ci mettiamo Un campo magari No un campo Facciamo i costruttori Ok Oh un costruttore e un mortaio Il mortaio ci sarebbe meglio Qui Quanto Quanto è distante E beh Quando arrivano poi ad attaccare me Giustamente facciamo il mortaio E siamo a posto Ok Mettiamoci anche Che ne so Delle mire Qua vicino Una qua E una qua Guardate Lì mettiamo un po' più a lato Ops Ok Tipo lo mettiamo qua E dovremmo essere a buon punto Poi non so bene Se funzionerà bene Oppure no Però i consigli Sono sempre Ben accetti Quindi se avete consigli Su come migliorare il tutto Vado a sapere qui sotto Nei commenti Ok Lasciamo il resto Per il momento così Ok E andiamoci a prendere Un paio di difese Quindi Difese Oh Diamine Non posso manco costruire Quindi aspetta la forza Che finisca questa roba E va bene Per il momento quindi Lasciamo stare questo modo Ci vediamo più tardi Appena possibile Per fare giusto Il resto Del Del cerchiamento qua vicino Abbiamo abbastanza soldi Quindi possiamo fare tutto Tranquillamente Quindi ragazzi Per il momento Vi saluto Ci vediamo dopo Cosa diamine questa roba Casa di gemme LOL Figata La devo prendere Ragazzi Eccoci qui tornati Stiamo Facendo un paio di cosette Ho fatto un fail Che penso sia Uno dei fail più grandi Della mia vita Ovvero Stavo andando a registrare E mi sono accorto Dopo che ho finito di registrare Le due battaglie che ho fatto Per prendere dei scudini Perché tipo ho preso Queste coppe Tipo quante 32-64 coppe ho preso Mi sono accorto che non stavo registrando Era andato in live Quindi Cose brutte accadono a Ulisse Vabbè Fa nulla Nel frattempo Noi siamo riusciti a sconfiggere Con quei due persone Senza problemi E' stata una cosa Abbastanza figa E bella Il pvp non è male Ora abbiamo poche Truppe Quindi non possiamo fare Nessun altro pvp Però Stiamo comunque portando avanti Altre Nuove persone Quindi stiamo tipo Recuperando Nuovi Amici Per sconfiggere il male Direi di si Quindi Noi ci vediamo nel prossimo video Potete sapere Qui sotto Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di Clash of Lens Se volete altri video E se vi piacerebbe Clash dei Continui E Ricordate Qui sotto Troviamo anche la pagina Facebook Dove ci sono tutte le info Sul canale Quindi se non siete Se non avete messo un like Fatelo adesso E noi Ci vediamo Nel prossimo video Ricordate Alle 13 Anche alle 14 Uscirà la material energy E non perdetevi Gli altri 4 Altri due video Scusatemi Che usciranno Oggi sul canale Ciao 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 ciao